salve a tutti i ragazzi e benvenuti sul canale di daniele il magnifico dopo un po di tempo che non facevo video ho deciso di ritornare con i tutorial che erano il mio marchio di fabbrica iniziali canale oggi il tutorial che vi porterò oggi sarà come scaricare ed installare football manager 2017 ovviamente per android prima di iniziare il video vi chiedo di mettere in piace questo video condividere questo video con l'hashtag il magnifico commentare il video con suggerimenti o consigli per fare nuovi tutorial ovviamente i più votati verranno selezionati quindi ragazzi sbizzarritevi con il tutorial allora iniziamo ad aprire google chrome ok questa è la pagina con l'ultima versione la versione migliore ovviamente nero magnifico vi offrirà sempre la versione più magnifica del gioco quindi qua abbiamo che è ufficiale tutto vedete qua ok installazione vabbè poi faccio tutto dovete cliccare su download da google play adesso lasciate stare la commissione ok voi cliccherete scarica io ho già scaricato quindi non cliccherò scarica andrò direttamente sulla cartella di download for manager 2017 lo installo una volta installato aprirò il gioco apriremo il gioco e qui vi dirà che ci sono due pacchetti a scaricare ovviamente il pacchetto completo vi darà tutte le skin giocatori e tutto mentre i dati essenziali avrà meno meno dati e peserà di meno mentre il pacchetto completo peserà di più lo scaricamento sotto il peso del gioco si gira intorno a un giga un giga e mezzo quindi in base alle vostre esigenze di memoria e tutto io ovviamente ho un telefono 64 giga quindi fotte sega della memoria clicco pacchetto completo una volta fatto questo vedi sta già iniziando a scaricare io con questo video posso anche concludere perché dopo avete scaricato avete tutto il vostro gioco quindi un saluto a tutti da daniele il magnifico